Dopo l'ERD è toccato ai nuovi arrivi e ha riconfermato Golemic. Il direttore del Crotone, Raffaele Venn, ha presentato i primi rinforzi della nuova stagione in casa Rosso Blu. Sono Mino Chiricò, attaccante esterno proveniente dal Padova, il portiere Paolo Branduani, che ha lasciato Catanzaro dopo due stagioni, e appunto Vladimir Golemic, che dopo i primi quattro anni passati a Crotone, ha voluto raddoppiare, firmando per altre quattro stagioni e diventando così il capitano dei Rosso Blu. La chiamata del direttore e del presidente, perché lo senti subito con una carica giusta, con una voglia e con una determinazione di vincere questo campionato, è stata questa qui la spinta e la voglia di farmi venire qui a Crotone. E' distanco di giocare al nord? Sì, abbastanza, dopo due finali perse era giusto anche cambiare, e quindi secondo me Crotone è la piazza giusta. Si dice che il portiere più bravo è quello che non prende i tiri, però grazie anche ai tuoi difensori, quindi hai un paio che sono veramente di serie A. Sicuramente, se non arrivano tiri il merito non è del portiere ma è di tutta la squadra, dall'attaccante al difensore. Il portiere bravo è quello che su quei pochi tiri che arrivano si deve far trovare pronto. Chiaramente è una stagione che si riparte quasi da zero, però hai voluto davvero sposare questo progetto. Tanto amore verso questa città che ti ha dato tanto e alla quale tu vuoi altrettanto dare moltissimo. Sì, è vero, come ho parlato prima non riesco a spiegare quelle sensazioni che ho verso questa città, perché dall'inizio, da subito, il raccolto che ho avuto qua mi ha comprato per tutta la vita. Come che io sono uno di emozionante è stato fondamentale di fare tutte queste scelte. Anzi è stato facile perché io vivo su queste sensazioni. Che tipo di lavoro state facendo? Stiamo lavorando giorno e notte per allestire la squadra, come hai detto in conferenza, per fare sì che le entrate e le uscite arrivino in concomitanza. Quindi stiamo lavorando al meglio per cercare di far uscire dei giocatori importanti, farne entrare altri importanti, ma soprattutto con le motivazioni giuste. È un lavoro difficile che però fortunatamente abbiamo anticipato. Quindi io non voglio essere presuntuoso, però devo dire che sugli obiettivi siamo molto avanti, su quelli che ci siamo prefissati e speriamo di chiuderli nel giro di una ventina di giorni per poi tenere 4-5 tasselli su giocatori che ovviamente il mercato richiederà più tempo per poterli sbloccare.